Ti ricordi quel giorno in cui abbiamo fatto la formazione delle squadre? Sì Quando hanno mandato in onda il video del tuo primo giorno? Volavi, Gris? Dico, ma che cazzo ti è successo? Il fatto lo sai Da un po' di mesi che non mi sento bene quando ballo Non percepisco l'emozione che do Perché se non la sento in primis io non posso trasmetterla Anche finito di ballare Cioè sento che ok ho eseguito il compito Ma non metto la passione Allora tu hai pochissimo tempo So Per capire qual è il problema E capire come risolverlo Mi fa piacere aver sentito le parole che hai detto Perché vuol dire che sei consapevole Quindi questo è già importante Sì, già lo sapevo È che c'ho sempre Io non ho parlato prima Perché pensavo di rifarcela subito Di rialzarmi subito Allora tu hai pochissimo tempo Allora tu hai pochissimo tempo Grazie.